Ciao a tutti ragazzi, vi eccoci qua su questo nuovo video di nuovo su Papers Please Nell'ultimo episodio ci avevamo lasciati molto bene con un regalo di 1000 dollari da parte di Ezik Che non ho ancora capito ben chi è, comunque è una specie di anonimous Per chi si fosse perso il precedente video lo potete trovare qui in alto a sinistra Non lo so, comunque nel video da voi è in alto a sinistra, oppure ci sarà il link in descrizione Andiamo subito a riprendere la storia dove l'avevamo lasciata, giorno 12, nello scorso episodio l'avevamo fatto in diversi giorni Un attimo ragazzi che mi suona il telefono Vi eccoci ragazzi, mio compagno al telefono, andiamo a far conti Giorno 12, The History of the Oscars, All to Work Work to work, suona bene Bene, bene Pana le ciance, 4 dicembre 1982 Oh oh, chi abbiamo qui? Buongiorno, buongiorno anche a te, salve Bella fratimo Eh sì sì sì, suona abbastanza acrime Dimmi Ah, qui inizia Dimmi, dimmi le questi Ehm, quasi gelata Disse, suona abbastanza, attraversali Tutti veran le queste, rispecio Ehm, questa è la certa Alla prossima, qui inizia Vedete Eh ok Noi non glielo dobbiamo dire Perché se no Quei mille dollari che ci hanno dato Ce li sogniamo E siamo senza soldi Avanti il primo Speriamo che non ci facciano il culo E non ci scoprano Noi ce li abbiamo tutti qua i documenti Bastavano che entravano un attimo nella nostra cabina E li trovavano Che cazzo vuol dire Ah immigrato Ottimo Andiamo bene Ah andiamo bene Controlliamo qui Matching Sicuro Ok Di dove sei tu? A Bristol Eccolo qui Mergerus con bacia Direi di si Il simbolo anche Allora Vediamo che non sia scaduto Perfetto Questo qui Vediamo che non sia scaduto anche questo George Buta Ah 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 Momento Qui c'è un A Che ci è confuso eh Un A che ci sta confondendo Eh finger Vai Vediamo un po' Con bacio Matching Ok Allora con bacio Perfetto Può entrare Perfetto Certo che uno Che si cambia nome Alla lettera finale Del nome Mette un A Al posto di un E Non mi sembra Tanto a posto Eh però Ciao bello Avanti Avanti prossimo No Che cazzo ho fatto Invalid name Ma Con baciavano Le fingerprint Ah Non ho letto L'Alias Cazzo È vero Hai ragione Merda Giusto Eh non ho letto L'Alias Vagà Mi sto scordando Cos'è sta roba Ah perché L'Alias Oddio Ma qui sembra un maschio Vagà È lei È lei Qua è normale Vediamo L'Explorer data Ok Non è scaduto 76 kg Sì ci siamo E Femmina Tsunkiedo Tsunkiedo È di Arzosca Quindi Ah non c'è Tsunkiedo Però Davvero l'hai preso Sta città Sta città Come Io ti detengo E mi intasco Dei bei soldini Che bello Grazie Per avermi fatto Intascare un po' Di soldi E ne ho letto Stiamo andando Abbastanza alla grande Questi episodi Non male Salve signore Anche lei Di Arzosca Orvec Buon C'è C'è Stavolta 89 kg Ci sono tutti Vediamo se non è scaduto Ok Matching Anegovic Mesov Sì 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 Perfetto Questo Vescillo District Sarebbe Non so cosa vuol dire No niente Correlation Vabbè Io lo faccio passare Per me Per me Regola Credo Ok La madonna Qualcun altro Me ne vuole evitare Mettiamoli qui da parte Andiamo avanti Stiamo andando alla grande Ragazzi Salve signore Come posso aiutarlo Visit Ok Due mesi Aia Qui abbiamo detto Due mesi Come faccio Come faccio adesso Se il tipo ha detto Due mesi Se il tipo ha detto Tre mesi Diplomazzo Eh ma Eh ma Non so come si fa Ah Aspè Forse Questo No Expiration Due mesi Due mesi Dove No Non so come fare Lui ha detto Due mesi Io glielo tenio E non so come si metterà Il motivo Oh Cazzo Boh Adesso vediamo Ma lui ha detto Tre mesi Lì ce l'ha scritto Due mesi Ok Tutto a posto Monsieur A post Eh Dovevo farla Ragazzi Oh Transit Just two days Parliamo di Republia C'è una Publia E Resvenadi Sì Sì È giusto Vediamo A controllare Che il simbolo Lì sia valido Giù Giù Ok Sembra di sì Rifacciamolo Per sicurezza Come ci ha detto Il tizio Ok Jan Redlich Vediamo Se non Consoliamo Che non sia Scaduto Il numero Del passaporto Con bacia Transit Today Center By Ministry Of Admissions È tutto a posto Fratimo Puoi entrare Vai vai Benvenuto Ad Arsotska Ecco Quando dice Cosno Trouble C'è qualcosa Che non va Avanti E invece È tutto a posto Salve Buon uomo Visit Quanto Capo Duix Ok Qui con bacia Il nome Con bacia Questo qui Con bacia Dai regà Lo sto a verificare Andiamo invece Alle United Federation Singleton C'è Perfetto Consideriamo Allora Che non sia Scaduto Il passaporto E poi Lo lasciamo Passare Perfetto Puoi andare Amico È stato bello Averti qui Non è vero Mi è solo Averti i coglioni Però vai avanti Adesso Aia Avanti Si faccia avanti Il prossimo Chi è Salve Buonadonna Cos'è Questa roba Work Three months Ok Allora Holder Jacqueline Kerner È dappertutto Engineering Tainering Until Tatecarni Allora Questo è a posto Expiration A posto Questo io Lo posso mettere Qui da parte Perché sembra Tutto a posto È una donna Abbiamo controllato Che non sia Scaduto Sì Andiamo a vedere Dalla Repubblica True Glorian C'è Oh regà A me A me pare a posto Io la faccio passare Sbaglio sempre Mannaggia Tenga lei Tutti dicono sempre Che ho no trouble Vabbè The next Paperx Please Salve Salve Visita Few months Sì Ci può stare United Federation Corista City C'è Ok Ah Mi sa che Quel Mi sa quel simbolo Non è giusto Ah sì sì Ha cerchiato Ok Due volte Ok Andiamo a controllare Adesso Se gli scade Niente Tutto a posto Numero di passaporto Pushet Vic Giacco Puoi passare Flattium Tutto a posto Vai vai E invece Non è un cazzo Sta poi Io Lo dico sempre Mi sembra di far tutto Correttamente Salve signora Mi dica tutto Immigrate Forever Addirittura Andiamo a controllare Qui intanto Dovrebbe essere giusto Però Ok Che cazzo è successo Oh no Un altro kamikaze Oh madonna Oh madonna Was cut short But I have missed attack Class 7 Appartement Unsavailable 30 30 10 Boot Create Upgate Tutulgo Stampa E Upgrade Boot Direi I move to Class 7 Dai Così siamo un po' Più al cardo Ok ragazzi Siamo rimasti Con 855 Dollar In questo episodio Un po' più corto Ditemi nei commenti Se vi va bene Questo Tipo Di durata Di video Se vi piace La serie Lasciate un like Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E noi ci vediamo In un prossimo video Bella Ciao 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 Grazie a tutti.